Signore, vuoi le mie mani per poter trascorrere questo giorno aiutando i malati e i poveri che ne hanno bisogno? Signore, oggi ti do le mie mani. Signore, vuoi i miei piedi per trascorrere questo giorno visitando coloro che hanno bisogno di un amico? Signore, oggi ti do i miei piedi. Signore, vuoi la mia voce per trascorrere questo giorno parlando con quelli che hanno bisogno delle tue parole d'amore? Signore, oggi ti do la mia voce. Signore, vuoi il mio cuore per trascorrere questo giorno amando ogni uomo senza eccezione? Signore, oggi ti do il mio cuore. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.